buongiorno a tutti della seromanica.com oggi insieme a voi per la prima volta andrò a vedere e a recensire il crown deck da poco in vendita nel nostro store sotto la categoria stupisci dove troverete veramente dei bellissimi mazzi di carte anche molto rari e ricercati il crown deck in questo caso mi è stato fortemente raccomandato un mazzo piacevole dei costi contenuti naturalmente andiamo a vedere innanzitutto l'astuccio che presenta questo bellissimo asso di picche con in cima una coroncina sulle quale spiccano i nostri quattro simboletti delle carte i fiori cuori le picche e naturalmente i quadri stessa corona due corone anzi contrapposte troviamo sul retro dell'astuccio che poi sarà presumibilmente il dorso della carta stessa sempre con le due corone contrapposte e i nostri quattro simboletti in evidenza andiamo a vedere le carte qua abbiamo the blue crown.com naturalmente la casa produttrice ho due joker i joker molto belli a forma proprio di corona ovviamente ecco la classica stellina sembrano identici uno e una due molto carini molto molto bello guardate questo asso di picche veramente innovativo con bello grande staglia bene take round deck scritto sotto naturalmente sta a parte o sempre della unit state playing card company dunque presumibilmente a finitura a air cushion andiamo a vedere il resto delle carte le picche non mi sembrano proprio quelle start sono leggermente bombate arrotondate le figure invece sembrano abbastanza classiche gli assi anche in questo caso i quadri leggermente bombati molto più grandi del normale bellissimi molto molto belli un bel colore e una bella forma molto piena ritorniamo anche in questo caso le figure di quadri abbastanza classiche ma leggermente cambiate diciamo proprio sulla figura sul volto eccole qua i fiori e infine andiamo a vederci anche le figure e i semi di cuori anche in questo caso sempre figura molto rossa molto accesa cuori bombati che riempiono bene la carta disposizione classica infine abbiamo una doppio dorso e una a faccia bianca sempre utili dorso molto carino simmetrico bello per le stesure bordino leggermente più largo del normale bellissime queste due corone contrapposte per cui crown deck in vendita per voi su lassonamanica.com detto questo vi ringrazio ancora per averci seguito mettete un bel mi piace iscrivetevi al mio canale guardatevi le recensioni di altri mazzi di carte e andate a vedere sul mio canale anche sotto mazzi rari ce ne sono veramente di particolari cosa ricercate crown deck dunque per voi questo è tutto vi ringrazio vi saluto e come al solito alla prossima